San Vito di Cadore è uno scrigno e qui ho conosciuto Alessandra e la realtà del suo ristorante Aga. Il piatto che ho presentato è un'insalata di persico con la quinoa nera, rabarbaro, due varietà di mente e le liquirizia. L'abbinamento ideale è sicuramente con la 10 luppoli, le bollicine in versione rosè del birrificio Angelo Poretti.